Il secondo 8, Lorenzo ieri spettacolare, ha fatto 5-6 volte messo in porta i giocatori due volte che a Leone nel secondo tempo ha sbagliato a tu per tu poi ha fatto fare il golam, poi ha segnato i rigoni il primo tempo ha sbagliato all'inizio di un paio di cose però Lorenzo quando si è sbloccato poi l'avevamo detto che quando comincia a segnare Lorenzo veramente è una partita ieri incredibile però c'è il problema a questo punto secondo me un voto in meno che ha avuto il capello? è un capello che secondo me è improponibile ti propongo una cosa la pagella dei capelli magari ho guardato felice per rispetto perché non vorrei sembrare antipatio però è un'idea magari quando i tempi saranno un po' più rilassati non si può guardare quelle leggi